Oggi parleremo un po' di WallStreetBets, la community di investitori più famosa e potente del mondo. Benvenuti su Investire con Gus. So che in molti di voi siete molto interessati a WallStreetBets. Tanti cercano di capire quale sarà la loro prossima vittima, quale sarà la prossima azione interessante in cui investiranno. Per chi ancora non lo sapesse, WallStreetBets è una community di Reddit in cui 10,6 milioni di persone parlano di investimenti. Se questi 10 milioni di persone riescono ad accordarsi su un'azione, riescono a trovarsi d'accordo su un investimento, riescono a muoverlo piuttosto bene. Come hanno fatto ad esempio con AMC che è passata da più o meno 10 dollari per azione a circa 50, ma soprattutto con GameStop che ha avuto una performance veramente pazzesca quando questa community ha iniziato a interessarsi a questa azione. Perciò è abbastanza comprensibile che tante persone siano interessate a capire quale sarà la loro prossima mossa. Però dobbiamo assolutamente dire che è praticamente impossibile capire quale sarà la loro prossima mossa. Io ci avevo provato parecchi mesi fa supponendo che Academy Sports and Outdoors sarebbe stata la loro prossima azione. Alla fine non è stato così, però come ormai saprete, spero, io non investirei mai in un'azione soltanto perché WallStreetBets la segue. Avevo investito in ASO dopo aver fatto una valutazione fondamentale, perché era un'azione fortemente sottovalutata secondo me. Però se riuscissimo a trovare un'azione sottovalutata e seguita da WallStreetBets potrebbe forse essere molto interessante investirci, perché un bel mix di sottovalutazione e hype creato dalla community darebbe alle azioni un boost veramente incredibile. Un'altra azione che ho in portafoglio, cioè Corsair Gaming, era finita nel mirino di WallStreetBets, però è durata molto poco. Come vedete c'è stato un giorno con un picco di volume enorme e con un super rialzo in cui WallStreetBets aveva puntato questa azione, però poi se la sono dimenticata, l'hanno lasciata perdere e le azioni sono crollate e sono tornate a livelli normali. Quindi cosa stanno guardando al momento quelli di WallStreetBets? La loro prima azione è Tesla. Prima di iniziare ovviamente non dimenticatevi di mettere un mi piace. Come diceva la canzone, chi non mette mi piace non fa l'amore e se siete nuovi iscrivetevi al canale. Tesla è l'azione più menzionata nel forum di WallStreetBets, però c'è un grosso però. Tesla vale più o meno 600 miliardi di dollari, quindi questa community non è assolutamente in grado di muoverla. Considerate che azioni che valgano così tanto non sono facili da muovere, non basta una community di degenerati come si definiscono loro per muovere azioni del genere. Però in seconda posizione troviamo Wish. La market cap è di 8,7 miliardi, quindi è una market cap abbastanza manipolabile dalla community di WallStreetBets. Probabilmente questi sono in grado di muovere le azioni fino a market cap intorno ai 30 miliardi, come hanno fatto con GameStop e AMC. Oltre a questi livelli diventa molto difficile pompare le azioni. E Wish, ContextLogic, è un'azione secondo me molto interessante, ha delle potenzialità future notevoli, anche se ovviamente ci sono tanti rischi. E la valutazione appare molto interessante, soprattutto scomparata ad altre aziende del settore. Come vedete da quando WallStreetBets ha iniziato a interessarsi a questa azione i volumi sono aumentati in una maniera vertiginosa. Durante il crollo i volumi erano praticamente a zero. Poi quando è stata raggiunta questa zona tra 7 e 10 i volumi hanno iniziato a pompare, sono altissimi e sono rimasti molto alti anche negli scorsi giorni. Come vediamo guardando il grafico 15 è una zona molto ostica, però potrebbe essere che una volta superata sia WallStreetBets che magari dei gestori di fondi potrebbero iniziare a comprare pesantemente questa azione. Quindi questo potrebbe essere uno dei primi target di WallStreetBets. La numero 3 invece è CloverElf. Questa è un'azienda molto controversa, è una recente SPAC. Ci avevo dato un'occhiata un po' di tempo fa, però dopo le prime ricerche era stato subito evidente che il CEO era un po' preoccupante, un po' strano. Diciamo che secondo la mia analisi non era un personaggio molto affidabile e quindi ho lasciato subito perdere. Quando si analizzano azioni, soprattutto azioni così giovani come una CloverElf che è una SPAC, la purezza del CEO deve essere una certezza. Non bisogna investire in azioni che abbiano un management un po' dubbio. Potrebbe essere molto pericoloso perché ovviamente il futuro di un'azienda dipende dal suo management, dal suo CEO principalmente. Poi c'è PaySafe che è un'azione che non ho mai analizzato in vita mia. Vedo che vale 9 miliardi, quindi potrebbe essere mossa da WallStreetBets e vedo che è crollata tantissimo, aveva raggiunto un massimo di 19, poi è crollata fino a un minimo intorno a 10 e vedo che sta riprendendo un po' di forza. Oggi è rialzo del 14%. Lo short interest in questo caso è molto basso, del 4,6%. Normalmente a WallStreetBets puntazioni molto shortate, però anche nel caso di Wish hanno colpito un'azione che era veramente poco shortata. Poi c'è WarCourse che è un'azione molto seguita, che in molti considerano molto interessante. Io non l'ho mai analizzata sinceramente, quindi non mi ci butto neanche a guardarla. E poi abbiamo alcuni cavalli di battaglia di WallStreetBets, cioè AMC, BlackBerry e Virgin Galactic. Però in queste azioni l'interesse è abbastanza basso, è molto difficile che rischiano a muoverle con così poche menzioni. Normalmente le azioni che si muovono di più sono quelle nella top 3, diciamo. Però qual è lo scopo ultimo di questo video? Innanzitutto vi dico che sì, potrebbe essere interessante cercare delle azioni seguite da WallStreetBets e con dei buoni fondamentali, perché questo è fondamentale, scusate il gioco di parole. Però se siamo degli investitori non possiamo soltanto speculare sulle mosse che farà WallStreetBets. Dobbiamo investire in business buoni che ci piacciono e che abbiano dei buoni fondamentali e delle buone valutazioni. Quindi magari potrebbe essere interessante seguire le mosse di WallStreetBets a tempo perso. Però è importantissimo non perdere il focus, non perdere la concentrazione. In tanti mi chiedono sempre, Gus ma quale pensi che sia la prossima vittima di WallStreetBets? Quale sarà la prossima azione di WallStreetBets? È impossibile dirlo, è difficilissimo capire quale potrebbe essere. E anche se si riuscisse a capirlo non è detto che queste azioni saliranno e non è detto che raggiungeranno un consenso sufficiente su WallStreetBets da muoverle così tanto, da fare dei rialzi strepitosi che ci facciano guadagnare un sacco di soldi. Quindi la conclusione di questo video è non concentratevi troppo su WallStreetBets, lasciate perdere. Concentratevi su dei buoni investimenti fatti con l'analisi fondamentale, analizzando per bene il business, i fondamentali, il futuro, tutte le cose che vanno analizzate. Non perdete tempo a cercare quale sarà la prossima mossa di WallStreetBets, non perdete tempo a leggere i vari commenti che scrivono in tutti i post, perché uscirete di testa, andrete fuori di testa e perderete la concentrazione. Però voglio anche dire che è quel che volta su WallStreetBets si trovano delle tesi molto molto interessanti e educative. Quindi la reale conclusione è, come in tutte le cose, la bontà o la malvagità del forum di WallStreetBets dipende da come questo viene utilizzato. Se venisse utilizzato per leggere delle tesi ben fatte da investitori sul pezzo, sarebbe anche molto interessante. Se invece venisse utilizzato semplicemente per scrivere commenti fanatici su un'azione, sarebbe soltanto una perdita di tempo. Quindi ragazzi, non perdete la concentrazione, restate con gli occhi puntati sull'obiettivo. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti.